A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davittis. Cari amici abbiamo avuto uno stop del caldo, stop del caldo grazie all'aria più fresca che è giunta dal nord Europa, da est, è coinvolto quasi tutta la penisola italiana, anche se sappiamo ci sono stati anche dei danni, in ritirata l'anticiclone per qualche giorno, poi pian pianino, più in là, tornerà di nuovo alla riconquista della penisola italiana. Comunque avremo tempo abbastanza tranquillo, anche se nei prossimi giorni della variabilità e dei locali fenomeni, probabilmente soprattutto sui rilevi ci saranno, ma intanto venerdì, vedete, tempo buono, poche nuvole, pochi disturbi, nel complesso bel tempo, anche ben soleggiato, con temperature addirittura fresche al primissimo mattino, poi aumenteranno naturalmente caldo, sì, temperature estive, ma temperature più umane. Abbiamo detto che avremmo avuto questo calo, infatti il calo c'è stato minima, intanto tra i 16 e i 19, massimo 20 gradi nei grandi centri abitati, temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi centigradi. Per il momento è tutto, amici di Retta 7, vi lascio come sempre ai nostri programmi. Arrivederci.